La sinergia associativa offre nuovi e migliori servizi ai proprietari di case. Un concetto approfondito dall'incontro organizzato nei giorni scorsi a Palazzo Bonillongare in città da Fiaip Vicenza, il Collegio Vicentino della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, in collaborazione con Confedilizia e Auxilia, tre importanti associazioni della filiera immobiliare che proprio nella provincia vicentina e per la prima volta in Italia hanno stretto un accordo di collaborazione. Abbiamo finalmente la possibilità di avere un ufficio condiviso tra Fiaip, Auxilia e Confedilizia, nella nostra sede unitaria di Via Zameno 817 a Vicenza. Questo ci permette di avere un servizio a 360 gradi da fornire al cliente. Abbiamo la possibilità di seguirlo nell'intermediazione per la vendita e la locazione e conseguentemente anche di fornirgli delle consulenze gratuite in ambito educativo e in ambito di finanziamenti per l'acquisto degli immobili. Questo con un unico referente appunto, l'agente immobiliare associato a Fiaip che è distribuito capillarmente in tutta la provincia di Vicenza. Dopo i saluti del presidente della provincia di Vicenza, Francesco Rucco, dell'accordo tra Fiaip, Confedilizia e Auxilia ne hanno parlato tra gli altri il presidente nazionale Fiaip, Giambattista Baccarini, e il presidente nazionale Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. È seguito un seminario sulle locazioni. Oggi andiamo a ratificare un protocollo tra Fiaip e Confedilizia che ha una triplice valenza, oltre a quella di rafforzare la sinergia politica esistente oramai da 40 anni tra le due federazioni, c'è una valenza utile, pragmatica, operativa, che è quella di dare attività formativa e informativa in relazione alle esigenze degli associati Fiaip in tema di locazione e fiscalità immobiliare e soprattutto in relazione anche agli accordi territoriali. E in ultimo, per coloro che come agenti immobiliari svolgono l'attività di amministratore di condominio, poter usufruire dei servizi tramite il protocollo effettuato con gesti con circa un anno fa. Per contattare Fiaip Vicenza, www.vicenza.fiaip.it